Allora ho depositato un po' di roba anche la, ho sistemato il cibo, ok ci abbiamo un cellaray, sono appena tornato di qui e sento un lucky, quindi andiamo subito a vedere chi è chi è il lucky di turno? ah un cattivo, ti va lucky? si anche no nel senso ce l'abbiamo già se proprio vogliamo, ah calda, non era diciamo voluta la cosa, pensavo che esistesse un po' di più però non ne sono nemmeno dispiaciuto, vaffanculo, allora vediamo se riescono ad upgradeare di nuovo mossanda con tutti quelli che ho, saranno 16 però, forse non ci arrivo, forse ho sottovalutato la cosa, ne mancano altri otto, porca puttana, il mio obiettivo era provare ad andare ad affrontare warshaft che è al 30, senza morirci possibilmente aiuto, 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 terra, terra erba, la troia mi ha caricato, ma io vedo se le granate devono di farlo un cazzo, nemmeno di farlo un cazzo, nemmeno di farlo un cazzo, prendendolo in testa, 29, 32, un uomo il cervo, beh a parte che non serve perché l'ho preso, perfino il napo non gli fa il sorletico, porca troia, allora raga io ho appena preso un frutto della tecnica e siccome non ho mosso fuoco vorrei far imparare all'uccellaccio, nightwing, al posto di vortice di sabbia vorrei provargli fargli imparare la cosa di fuoco, la freccia di fuoco, ok, e la schermata falla, freccia di fuoco, ok, scaglia tre rapide frecce di fuoco che inseguono un nemico ottimo, quindi in teoria non si sbaglia nemmeno, però, allora raga, io direi di congiungermi con la parte sopra, esplorando la parte che ci manca e proseguire, perché ho tirato fuori me il pack adesso, ui ci sono due mossanda che non posso non fare a meno di affrontare, ah cazzo è vero che ho fatto imparare la nuova mossa, me l'ho completamente dimenticato, non me lo ammazzare, perfetto, poi ho preso anche un uovo, madonna toglie bene quella di fuoco contro mossanda, e dai, vabbè vado di ultra, vaffanculo, dovrò craftarne un po', è quello che è la pigrizia di craftarle che mi ferma, vai però li abbiamo presi, uh qua c'è un campo, c'è un campo due mossanda dei pigard, qua sta per succedere un casino della madonna eh, state attenti, io sarei quasi tentato, chi è quella la? ah un toko toko, sembrava un rosalia tipo, di pokemon, qua c'è la statuetta, sono quasi tentato di vedere come se la cavano da soli, attraverso qualcuno che matta, oh sono arrivati i rinforzi, via, che palle però raga, ho lasciato una zona inesplorata qui, vado subito a rimediare, ma sono pazzissimo di vita anche io eh, vorrei mettermi nei casino, cosa che sto per fare, dai prenditi, riprenditi riprenditi vai, ah c'è un dungeon, c'era anche una statuina, ah c'è una sfera mega, vado a prendere l'anima di palle, oh che ca- oh, un trafficante, sono interessato, violet, mai visto, o è nuovo oppure devo ancora trovarlo, allora qua c'è un uovo, è di una statuina, l'uovo probabilmente è gigante, si esatto, comunque siamo sempre nel territorio di gorilat e di mossanda, mossanda ce l'ha con me, non so per quale motivo, ragazzi abbiamo un verdash, livello 35, io non ce la farò mai a batterlo, penso, o meglio, potrei anche rischiarmela, però non so quanto mi convenga, adesso guardo un po' come la situa, se vedo che potrebbe essere fattibile, ci vi provo, ah ma cazzo è di là, sto andando alla parte opposta, sto andando verso questi monti qua, queste montagne acuminate, così mi spoilerò anche un po' di ciò che dovrò andare ad esplorare nelle prossime volte, adesso voglio andare a sbloccare il viaggio rapido che c'è di lì, c'è anche del viola, sarà un bioma molto strano quello lì, minchia ho queste monete canine, se trovo quel pal maledetto che l'accetta, guarda, lo faccio scoppiare da quanto gliele do, qua sopra che c'è? Nulla perché è troppo ripido mi sa, no c'è un uomo, c'è un uomo messo da culo, c'è un campo, allora io direi di andare al campo e poi andare laggiù a prendersi il viaggio rapido e ad affrontare il boss, prima il viaggio rapido perché così se muoio ce l'ho attaccato, sono due, ah no, c'è altra gente lì ma se ne occupano i pali, liberiamo sto mau, mamma mia, che assist, questa qua è la cosa di bella noire, sembravano avermi aggrato ma si sono comportati in modo stranissimo, adesso sono andate distanti dai gorilat, territorio della velocità divina, già qua mi sto un po' cagando addosso, verda sce, provo a vedere che minchia c'è, caso mai esco subito, veloce sembra veloce, è d'acqua, si buona d'acqua, d'erba, forse, ma dico forse, potrei ammazzarlo con le frecce di poco, mi ha tolto un cazzo, non gli sto togliendo un cazzo neanche con le cose di fuoco, ah così veloce non mi sembra eh, devo dire la verità, sono io che sono lento più che altro, attaccandolo divento lento, cos'è sta storia, qua è la mia impressione, no mi sa che è l'attacco frecce di fuoco che è lento di base, e ci sto anche morendo, ci muoio, ci muoio, ci muoio, ci muoio, l'ho preso? Il figurati se lo prendo con la cosa, però già che sono qua dietro è una buona cosa, No 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 no, merda, ci muore lui, ci muoio, voglio catturarlo, si? Dove corre Verdansh crescono piante di qualità, non passa dove spruzzano dei zerbanti, oh che Che pannoioso Vediamo cosa fa Allora, allora, allora Dov'è? Eccolo Aumenta la velocità del movimento C'è il trasporto Il livello di... Oh, sta falegnameria lo tocca il cazzo, veramente C'errebbe anche delle belle cose Delle belle skill Ma falegnameria rovina tutto Mi ha spaccato i vestiti Purtroppo Niente ragazzi, torniamocene in base a riparare le cose Ho fatto una... Buona imprese Non pensavo di riuscire a catturarlo a livello 35 Andiamocene, andiamocene Vai, questo si è schiuso Super uovo generico, vediamo cosa c'è Gorillat, va bene Non pensavo di riuscire a catturarlo a livello 35 Non pensavo di riuscire a catturarlo a livello 35